Benvenuti al meteo. Sul nostro territorio prevale l'azione stabilizzante dell'alta pressione, con tempo buono e clima un po' più freddo a causa di un impulso gelido dalla Russia. Nel dettaglio sul Veneto, la grafica di sabato 22 gennaio evidenzia un contesto tranquillo. Sarà infatti soleggiato un po' su tutte le province, salvo locali annuvolamenti, sui settori dolomitici di confine. Clima a tratti ventoso in pianura per il rinforzo dei venti da ovest. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sotto zero praticamente ovunque, massime invece tra 5 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, non sono attese piogge. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra meno 3 e meno 1 grado, massime sui 4-6 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige dove avremo poche novità, ampio soleggiamento, nessuna novità di rilievo. Temperature minime sotto lo zero, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Approfitta dell'eco bonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Dona di Piave, contattaci per un preventivo gratuito. Grazie a tutti.